Musica Si è aperta oggi la seduta di consiglio comunale monotematica sulla questione rifiuti. I lavori sono iniziati con la commemorazione svolta dal sindaco Luigi De Magistris del giornalista napoletano Giuseppe D'Avanzo, recentemente scomparso. De Magistris ha anche ricordato la ricorrenza del 31esimo anniversario della strage di Bologna, che causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. Una strage su cui grava il peso di una verità mai raggiunta. Un rapporto strettissimo esiste allora tra la strage di Bologna e la figura di Giuseppe D'Avanzo. Una democrazia compiuta e moderna, infatti, vede nell'attività indipendente dell'informazione una forma preziosa di controllo sul potere politico e le istituzioni. Queste le parole del sindaco. Anche il presidente Pasquino ha ricordato la figura del giornalista Giuseppe D'Avanzo e Silvia Croce, figlia del filosofo Benedetto Croce, e subito dopo i giornalisti Vasquez e Moretto hanno commemorato il caporal maggiore David Tobini, caduto in Afghanistan, e Vanda Spoto, figura storica della cooperazione campana. I lavori sono entrati nel vivo con la relazione dell'assessore Sodano sulla situazione dei rifiuti a Napoli. Il vice sindaco ha ricordato che con l'approvazione della delibera numero 739 del giugno 2011, l'amministrazione comunale ha fissato le prime misure per la gestione integrata dei rifiuti, con un risultato atteso nel 2012 del 68% per la raccolta porta a porta. Auspicio del sindaco e dell'amministrazione tutta è che Napoli si trasformi da città capitale della monnezza a capitale del riciclaggio. Il vice sindaco Tommaso Sodano ha poi lungamente e dettagliatamente ribattuto alle questioni sollevate in aula. In conclusione dei lavori, l'aula ha quindi votato la mozione firmata da tutti i capogruppo e sulla quale l'amministrazione ha espresso parere favorevole. Nel documento approvato all'unanimità, il Consiglio ha tra l'altro richiesto di istituire al proprio interno una commissione speciale di indagine conoscitiva sulla discarica di Chiaiano, impegnando quindi l'amministrazione comunale a richiedere all'Asia un preliminare piano aziendale. Grazie a tutti!